e allora ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti su vehicle tech in questo video parleremo di sistema ibrido della renault un sistema ibrido appena uscito molto particolare lo spiegherò nel dettaglio e vedremo il suo principio di funzionamento prima di continuare con il video come al solito vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video prossimi approfondimenti e soprattutto lasciate un like e allora vediamo nel dettaglio come è costituito questo sistema ibrido brevettato da renault allora innanzitutto il sistema che può funzionare sia in modalità serie che modalità parallelo quindi è un ibrido misto vi rimando al video diciamo alla playlist che contiene tutti i video sulla tecnica delle auto ibride dove troverete un po di indicazioni informazioni a riguardo dunque sono presenti due motori elettrici e un motore benzina il motore benzina è un'unità 1.6 di cilindrata da 90 cavalli ed è 8 ottimizzato in maniera particolare per avere il suo rendimento massimo diciamo a velocità autostradale perché sappiamo che quello è il punto di funzionamento più problematico di un'architettura ibrida i motori elettrici sono due sono elencati qui sono due sono quello principale da 36 kilowatt e 200 newton metro di coppia mentre il motore elettrico 2 è un'unità da 15 kilowatt e 50 newton metro di coppia allora come nel caso toyota qui anche in questo caso la particolarità del sistema quindi il punto chiave dell'intero sistema ibrido è rappresentato dal sistema di trasmissione qui abbiamo a differenza del caso toyota dove che vi rimando al link dove ho spiegato il suo funzionamento abbiamo un cambio un cambio automatico a quattro marci che però ha delle sue particolarità davvero interessanti innanzitutto un sistema a tre alberi e vedremo perché sono presenti tre alberi perché riescono a far funzionare in modo veramente molto intelligente i tre i tre motori la particolarità vera e propria di questo cambio è quella di non avere frizione e non avere sincronizzatori non entro nel dettaglio ma una definizione di base la do la frizione è quell'organo che consente di separare il motore termico dalle ruote quindi dalla trasmissione quando voi premede il pedale della frizione state separando le ruote dal motore per far sì che si possano fare le partenze da fermi e anche per i cambi marce nel caso di cambio manuale nel caso dei cambi automatici la frizione di solito comunque è presente invece i sincronizzatori sono dei dispositivi presenti negli innesti degli ingranaggi delle singole marce per far coincidere la velocità di rotazione in maniera fluida tra l'albero primario e l'albero secondario del cambio ma comunque li approfondirò in video successivi i sincronizzatori in poche parole servono a evitare le grattate del cambio quando inseriamo una marcia e allora perché non sono presenti questi due sistemi allora vediamo un po il funzionamento ho riportato qui uno schema dell'architettura del cambio quindi abbiamo il motore termico a benzina il motore principale elettrico e il motore elettrico secondario allora l'unità elettrica principale è quella demandata alla trasmissione alle ruote quindi per la potenza alle ruote e anche per la frenata rigenerativa la gran parte della rigenerazione in frenata avviene da qua l'unità elettrica secondaria ha il compito invece molto particolare sia di generare coppia e potenza per le ruote anche un minimo di rigenerazione ma il suo scopo principale è quello di controllare la rotazione e del motore termico infatti non essendo presenti i sincronizzatori come abbiamo detto per evitare appunto gli inserimenti di marce poco fluidi e contrastati allora il motore elettrico secondario mette in rotazione il motore termico alla giusta velocità di rotazione per sincronizzare la velocità con quella dell'albero secondario del cambio in modo tale da far avvenire correttamente il cambio di marcia l'altro compito di questo motore è proprio quello di avviare il motore termico benzina allora come vedete qua sono riportate le quattro marce quindi quattro rapporti che vengono selezionati da questi quattro innesti 1 2 3 e 4 il motore elettrico secondario vedete che è collegato innanzitutto direttamente al motore termico per poterlo avviare per poterlo controllare come ho detto prima ma poi anche un questo è anche collegato in maniera secondaria all'albero d'uscita del cambio in modo tale che anche lui comunque può fornire una coppia alle ruote o può funzionare da frenata rigenerativa per farvi capire un po meglio il discorso di come funziona questa architettura vediamo diciamo 3 4 fasi principali perché il sistema permette 15 combinazioni diverse secondo renault di funzionamento tra i tre motori ovviamente non possiamo esaminarle tutte in un video allora durante le partenze da fermo il motore termico e quello elettrico secondario sono completamente scollegati dalla trasmissione agisce solo il motore elettrico primario quindi riceve energia alla batteria e trasmette coppia alle ruote durante un'accelerazione quindi quando richiesta un po più di potenza o velocità un po più alta contribuiscono alla coppia alle ruote sia il motore elettrico primario che il motore benzina questo però prima di fornire coppia alle ruote viene intanto acceso dal motore elettrico secondario ma viene portato da questo alla giusta velocità di rotazione per ingranare il rapporto giusto del cambio e quindi poter trasmettere coppia alle ruote a velocità costante invece questo può funzionare da ibrido serie appunto come dicevo all'inizio a velocità costante cambia semplicemente che il motore benzina oltre a fornire una parte della coppia alle ruote tramite il motore elettrico secondario il quale è sempre collegato ricarica le batterie della vettura durante le frenate rigenerative ci sono un paio di possibilità differenti se è un lieve rallentamento diciamo che entra in funzione solo il motore elettrico secondario tramite questo rinvio che avevo spiegato prima quindi non tramite il motore benzina che viene spento e disattivato durante i rallentamenti o le frenate ma quindi riceve coppia alle ruote tramite questo rinvio quindi da qui tramite questo rapporto che sarà innestato e quest'altro rinvio riceve coppia alle ruote lui viene fatto funzionare da generatore e ricarica le batterie nel caso sia necessaria una potenza frenante rigenerazione maggiore interviene anche il motore elettrico primario quindi anche lui riceve coppia dalle ruote quindi sempre da qui questo è l'albero del motore elettrico primario riceve coppia viene fatto funzionare al generatore e ricarica anche lui le batterie dunque il sistema può sembrare complicato nei suoi principi di funzionamento ma in realtà è alquanto intelligente infatti riesce a collegare nel migliore dei modi questi tre motori e riesce a farli funzionare assieme mantenendo uno schema davvero compatto soprattutto compatto e leggero pensate che la riduzione di peso dovuta alla mancanza della frizione dei sincronizzatori riesce a compensare il peso maggiore della batteria della presenza di motori elettrici tant'è che la questa versione della renault clio ad esempio pesa soltanto 10 kg in più della versione con benzina e cambio a doppia frizione diciamo classico e infine una piccola chicca di questo sistema è stato progettato dal suo ingegnere dal suo ideatore è stato prima costruito sui lego vi allegro un'immagine quindi è stato montato sui lego è studiata la sua fattibilità sui lego prima di essere ingegnerizzato per un veicolo normale dunque anche per questo video è tutto vi rimando di nuovo alla playlist sulle architetture ibride sulla tecnica alle auto ibride la linko qui qui sopra iscrivetevi al canale per non perdervi altri approfondimenti soprattutto lasciate un like se il video vi è piaciuto e non esitate a commentare qui sotto per qualunque informazione o domanda ciao ciao